Bene, benvenuti alla segna stampa di oggi sabato, che giorno è oggi? Sabato 25 febbraio. Allora, sui giornali ci sono due o tre cose interessanti, non di più oggi, quindi andiamo subito su quelle. La prima riguarda, c'è una differenza tra il Corriere della Sera e Repubblica, tra il giornale e la stampa, il messaggero, cioè chi dà più peso all'assenteismo nell'ospedale di Napoli, dove sono state arrestate 55 persone, e chi dà più spazio invece all'annosa questione della Raggi e dello Stadio di Roma. Partiamo dal Corriere della Sera e dalla Raggi e dello Stadio di Roma. Secondo il Corriere della Sera, Raggi sì allo stadio, dimezzato, 500 mila metri cubi invece di un milione di metri cubi. Allora, uno dice, intanto questo atteggiamento un po' liceale, fatemi dire, della Raggi, che si sente male e va in infermeria, il che è legittimo per carità, senza la strata sicuramente male, però come posso dirvi, la Raggi sembra la tua compagna un po' secchiona del liceo, io ho questa impressione, si sente male, va al San Filippo Neri, ci dispiacciamo ovviamente, e poi torna dal San Filippo Neri e chiude un accordo su cui abbiamo parlato da anni, dimezzando le cubature. Insomma, ci voleva così poco, anche perché poi il Presidente della Roma Pallotta e quello che deve costruire materialmente lo Stato Parnasi si dicono d'accordo. Allora c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non funziona, tra l'altro fino a ieri lo stesso Beppe Grillo ci ha spiegato che è l'ante causa della Virginia Raggi, ci ha spiegato che non si poteva fare lo Stato là, a Tordivalle. Fino a ieri ci hanno spiegato che c'era un vincolo architettonico su quelle gradinate che sono completamente inusabili del vecchio Tordivalle fatte da un architetto nel 1960 che sembra che sia Picasso, una tela di Giotto. Adesso improvvisamente si diminuisce del metallo i metri cubi di costruzione, si annullano le due torri e lo Stato si può fare. Lo sapete come la penso io, io penso che lo Stato si debba fare. Zedda, il sindaco di Cagliari, certamente non un pericoloso cementificatore, un uomo della sinistra arancione, fa fare lo Stato a Cagliari. A Frosinone c'è uno stadio che è stato recentemente fatto, c'è lo stadio di Torino che sta facendo diventare ricchissima la Juventus. Vabbè, insomma, solo a Roma non si può fare lo stadio. Adesso si farà, sempre che si farà, a 500 mila metri cubi. Capisco qualche cosa, si dovrà forse rifare una nuova conferenza di servizi, quindi, insomma, passeranno anni perché poi si rifarà questo stadio. Allora io ho pensato, se diminuisci della metà dei metri cubi e si deve fare una nuova conferenza di servizi, magari la parte politica è d'accordo perché è un modo per dire ai tifosi facciamo lo stadio e poi saranno i burocrati a fermarlo. Un po' lo stesso stile che ha utilizzato la Raggi quando era tutta contenta del vincolo architettonico, oppure lo stesso stile che ha usato Grillo quando era tutto contento che si sarebbe potuta verificare era un'esondazione lì a Tordivalle e quindi non si poteva fare lo stadio. Quindi era una specie di alibi per i politici di dire noi lo facciamo, lo dicono così ai tifosi, ma la burocrazia non ci permette di fare. Poi però ho visto che anche Parnasi, quello che deve costruire lo stadio, e anche Pallotta, quello della Roma, sono contenti del fatto che lo stadio sia fatto con metà cubatura. Insomma, arrivo alla fine e lo capisco da un pezzo di Repubblica, da un titolo di Repubblica. Via le torri, ma meno infrastrutture. Allora lì ho capito tutto. E questo è il gioco, è chiaro che questo è il gioco, ci guadagnano tutti. Sapete chi non ci guadagnano? I consumatori. Cioè, siamo stati fottuti. Siamo stati fottuti perché i politici fanno bella figura dicendo che hanno fatto lo stadio, i costruttori fanno bella figura dicendo che cubano di meno, e alla fine ci rimettiamo noi. Sapete perché ci rimettiamo noi? Perché a cosa serve fare uno stadio? A cosa serve fare un grande evento ludico in un posto in cui non ci si arriva con la metropolitana, non ci si arriva con i camion, con, scusatemi, con i ponti, non ci si arriva con i mezzi pubblici? Serve a niente. Cioè, il vero punto è che lo stadio aveva un senso, perché tu fai lo stadio, ti permetto di fare lo stadio, però mi porti la metropolitana, però mi fai il ponte sul Tevere, però mi eviti l'esondazione, però mi curi i giardini pubblici, però mi fai l'asilo, però mi paghi le ogni di urbanizzazione. E' chiaro, questo è il contratto che c'è sano e privatistico in un rapporto tra costruttore e amministrazione locale. Allora che cosa è la paraculata che hanno fatto? La paraculata che hanno fatto è costruirci di meno, così sono tutti contenti, questi no di onestà, 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 dicono che non abbiamo cementificato Roma, ma il danno che facciamo è molto superiore, perché 500.000 metri cubi senza infrastrutture sono molto peggio di un milione di metri cubi ma con le infrastrutture. Cioè, io voglio più metri cubi, voglio più cemento se mi date la metropolitana. E' chiaro? Questo è il punto fondamentale che non capiscono i nostri ipocriti ambientalisti, diciamo, da rete. Vabbè, teniamoci lo Stato come lo vogliono fare loro, mi auguro che quello che è il mio sospetto, ma anche quello di Repubblica, sia un falso sospetto. Tra l'altro, c'ha ragione François, che la saluta un po' che non la saluta, un privato che fa uno stadio, un privato che fa uno stadio, ci deve guadagnare, non c'è nulla di male, non c'è nulla di male. Se lui non guadagna, vuol dire che ruba da qualche altra parte. Quindi, questo signore guadagna, si tira su metri cubi. Chiaro? Mi sembra che ha ragione perfettamente oggi Sallusti, col fondo che fa sul giornale, in cui dice, dipende come lo fa il cemento. Il cemento che è stato fatto a Milano ha reso più bella una zona orrenda di Milano. Va bene? Vabbè. L'altra storia della giornata, sto leggendo un po' di vostri commenti, vabbè, ci sono i soliti che ce l'hanno con me, perché dicono che sono un attacco Movimento 5 Stelle e come sempre non capiscono assolutamente nulla. L'ospedale di Loreto Mare di Napoli. Io qua la dico molto semplice, la storia di Cronaca la leggete su tutti quanti i giornali, Repubblica apre su questo piuttosto che sullo stadio, quindi si inverte rispetto al Corriere della Sera che il giornale di Milano che invece apre sullo stadio. 55 erano stati, 94 indagati. Poi ci sono tutte le storie, quello che giocava a tennis, quello che beggiava, insomma tutte queste robe qua che fanno parte della simbologia tipica degli assenteisti. Poi magari è andato 5 minuti a giocare a tennis, poi magari si scoprirà... Vabbè, insomma, la pagina più interessante non è tanto la cronaca dell'ospedale di Napoli dove non lavoravano, ma sono due. L'intervista al procuratore che dice agli arresti domiciliari ma di obbligo ad andare a lavorare e così non si fottono due volte gli interessi dei cittadini e la seconda è il fatto che mi sembra che Repubblica ma anche il giornale ricordano quante volte sono stati poi licenziati quelli che sono stati i furbetti e il cartellino. Quasi mai. Allora io dico una cosa molto semplice che a qualcuno potrà sembrare un po' sbrigativa ma io penso che la gente non bisogna arrestarla. Io penso che il medico che viene beccato a giocare a tennis in un'ora di lavoro non deve essere arrestato. Non c'è un problema di codice penale. Deve essere licenziato. È molto peggio. La sanzione per un medico, la sanzione per un infermiere, la sanzione per un fattorino che non fa il suo mestiere è licenziarlo, porca puttana. Questo è un paese in cui pensiamo di usare il codice di procedura penale di sparare col bazooka le formiche. Poi dopo che abbiamo sparato col bazooka abbiamo fatto forse delle ingiustizie ma le ingiustizie penali sono molto peggio di ingiustizia civile. Si licenzino le persone. Questo è un paese che vuole fare le leggi penali su tutto, penalizzare tutto quanto, mettere in galera tutti quanti, meno galera. Chi se ne frega della galera? Licenziateli. È molto peggiore la sanzione di un rischio di licenziamento invece che fargli fare tre anni di processo su un giudizio penale che poi alla fine vinceranno. Anche perché arrestare una persona perché è andata a giocare a tennis invece che lavorare soltanto una mentalità bacata, corruttiva, italiana. Licenziatelo! È l'unica sanzione che si può fare ma in un'azienda privata uno che non lavora lo licenziano se ci riescono se no lo mobizzano cioè lo mettono in un angolo perché non hanno alternativa che licenziarlo. Saviano e Feltri parlano dell'altra questione oggi che è il video sugli zingarelli come li chiamano non abolitemi voi di Facebook anzi Facebook probabilmente guarda soltanto i titoli non guarda il contenuto di quello che facciamo perché zingarelli è una di quelle parole che non si possono dire in televisione non si possono dire nel mondo del politicamente correccio che è fatta dalla rete internet cioè dalla rete di Facebook però zingarelli è una citazione di cronaca perché è quello che dice Feltri allora Feltri dice che il video con le due zingarelle che erano state sequestrate dice Feltri chiusi in uno sgabuzzino dai due dipendenti della Lidl perché erano state beccate a rubare a ravanare a cercare di rubare qualche cosa e questi fanno un video e si mettono a ridere bene quella è un sequestro di persona e quindi è grave ma dice Feltri l'esasperazione pura insomma capite qual è il tema di Feltri dice quelli hanno chiuso in una gabbietta non dovevano farla ma anche l'esasperazione di noi che subiamo migliaia di furti è incredibile non fanno bene a mettere in gabbia gli zingari io non penso che questo sia qualcuno fa questi commenti non sono d'accordo però dice Feltri non sono neanche d'accordo sul fatto che questi due dipendenti debbano subirne delle conseguenze sono stati leggeri scemi scemotti ma adesso licenziati mi sembra troppo Saviano invece con un attaglio completamente diverso su Repubblica fa un attacco a Salvini dicendo che Salvini li ha incensati e che Salvini in sostanza ha fatto male devo dire che anche io non sono convinto che mi sembra che sia giusta la posizione di Feltri che è un giornalista meno quella di Salvini che ne rende due eroi ma insomma ma neanche dei delinquenti ma la cosa più interessante di Saviano che ho pensato leggendo oggi è che Saviano è uno straordinario moralista nelle ultime dieci righe gli ha preso la sindrome come si chiama quella la figlia del la figlia di la Spinelli gli ha preso la sindrome di Barbara Spinelli cioè di fare delle citazioni colte per sembrare figo non c'è bisogno di fare citazioni colte quindi dico avrei potuto citare dice le ultime cinque righe la scuola di Francoforte avrei potuto citare Freud invece cito Yoda di Guerra Stellari come per dire che soltanto quello è il linguaggio che conosce Salvini insomma già questo è l'atteggiamento di questa presunzione intellettuale che Saviano si potrebbe togliere dalle balle perché insomma di presunzione de che ma se fai tanto il fenomeno Saviano e su questo ti dico la verità io penso che ci sono anche delle ragioni nel fatto che Salvini abbia esagerato e quindi potevi fare anche una cosa un po' più discreta però converrebbe caro Saviano che ti ricordassi il tuo pezzo di qualche mese fa in cui tu dicevi che Graziano il presidente del PD era un mafioso casalese e che era il simbolo dello schifo della politica napoletana è stato archiviato archiviato non assolto dagli stessi PM non ho letto la scuola di Francoforte Freud Freud ci vorrebbe molto caro Saviano con te Freud che racconta le tue scuse nei confronti di quel pezzo becero che è uguale a quello delle due dipendenti di Lidl che mettono in galera in gabbia le zingarelle ecco come loro forse anche tu hai messo in gabbia questo Graziano con le tue parole con la tua scuola di Francoforte però non hai chiesto scusa a nessuno cosa che forse ci attendiamo che tu faccia facci anzi non ce l'aspettiamo facci ultima cosa parla degli obiettori di coscienza degli ospedali italiani sulla legge 194 si pone una domanda che può essere mal posta o ben posta comunque è una domanda che vale la pena di sentire ma perché il 90% degli italiani è a favore dell'aborto e l'80% invece dei medici è obiettori non è che c'è un po' di paraculagine nei medici non fare gli aborti e perché la loro carriera il loro tempo il loro lavoro nell'ospedale è facilitato se non si occupano della 194 punto di domanda che si pone Filippo Facci e che mi interesserebbe approfondire di più abbiamo fatto un sacco di tempo siete in 620 ora quanto è la diretta quanto è che abbiamo fatto comunque questo Facebook oggi sta funzionando malissimo vi saluto vi do appuntamento a domani domenica un po' più in ordine rispetto ad oggi ciao Francois no Luca Premier è veramente difficile che io possa mai diventarlo e non ho nessuna intenzione di fare come voi ben sapete politica Susanna Alberti io sono obiettore moralisti in confusione Susanna Moschetti niente da obiettare è giusto insomma è Anna Ciamino che saluto come sempre quanto ci costa Saviano al giorno chiede Giangi penso nulla sì c'è una scorta ma quello devo dire che il fenomeno delle scorte non riguarda soltanto Saviano ma riguarda tanti direttori dei giornali da Vespa a Sallusti a Feltri quindi insomma non so chi ne abbia più bisogno e chi meno sono medico obiettore se vuoi contattami e ti spiego dice Susanna Alberti bisogna rispondere a Facci e spiegare io non metto in dubbio che ci possono essere dei medici obiettori figuratevi un po' voi la legge è stata pensata bene non vedo perché un medico cattolico che contro l'aborto debba essere obbligato a fare gli aborti però quello che ti richiede Facci sui numeri ha una certa ragione vi dico che a questo punto è fatta questa diretta porca miseria non si riesce a vedere quanti minuti con questo Facebook che non funziona Matrix Enrica non ci sarà martedì ma ci sarà mercoledì quindi noi la prossima settimana andiamo in onda mercoledì e venerdì va bene Matrix sugli obiettori un po' difficile non mi sembra che sia uno di quei temi di largo pubblico purtroppo vi do un saluto ci sono tante domande che mi state facendo ma non posso rispondere a tutti vi do un saluto non so quanti minuti ho fatto e vi do appuntamento a domani ciao niente qua eccoci qua pazzesco eh fantastico Facebook non si riesce più a chiudere quando la tecnologia devo chiudere non si riesce più a chiudere non si riesce più